il napoli è ufficialmente una macchina da guerra e direi che dopo ieri sera questo si può dire senza timore di essere smentiti ciao ragazzi scusatemi l'assenza degli ultimi giorni siamo di nuovo qui a parlare di napoli cambiamo visto che parliamo sempre del milan essendo la nostra squadra questa volta parliamo del napoli perché penso che il napoli di quest'anno se lo meriti almeno un video insomma a parte dedicato per la straordinaria stagione che sta facendo e la vittoria con lei intracted ieri è solo diciamo l'ennesimo successo di una stagione finora praticamente perfetta e napoli sta facendo una stagione sensazionale e sta facendo un campionato finora da record perché se non erro finora napoli ha vinto tutte le partite ne ha pareggiate soltanto due e ne ha persa una le due pareggiate le ha pareggiate tra l'altro consecutive verso l'inizio del campionato credo un pareggio con lecce un pareggio per 0 0 con la fiorentina 1 1 con lecce se non ricordo male quando veniva da un inizio di campionato con 3 4 vittorie di fila poi ha fatto questi due pareggi scusate mi pare due vittorie di fila poi ha fatto questi due pareggi tutti a eccala vedi il napoli ha partito bene vittoria col mondo facendo un sacco di gol così poi adesso sta tornando al solito napoli e invece quando ci siamo sbagliati napoli che poi ha inanellato una serie di vittorie allucinante credo 11 vittorie consecutive per poi tornare alla sconfitta solo a inizio 2023 contro l'inter in una partita dove napoli va detto non giocò particolarmente bene però insomma aveva di fronte un grande avversario l'inter che forse forse la seconda squadra più forte di questo campionato perlomeno i numeri ad oggi dicono questo perché l'inter è secondo quindi la seconda forza di questo campionato ci può stare una sconfitta e insomma tutti in quel periodo me compreso nel periodo prima del mondiale subito dopo il mondiale pensavamo ok adesso c'è la sosta per il mondiale magari napoli potrebbe avere qualche difficoltà una volta ritornata dalla sosta per i mondiali perché comunque giocatori che vanno ai mondiali non sai come tornano diciamo si perde quell'abbrivio di questa partenza lanciata queste vittorie consecutive sta facendo benissimo il napoli magari interrompersi per un mese e mezzo potrebbe farli ripartire con qualche certezza in meno e la sconfitta con l'inter a rientro diciamo in campionato dopo la sosta lunga sosta per i mondiali lasciavano poi intendere questo nel senso il napoli non giocò benissimo perse quella partita con l'inter e tutti quanti pensavamo ecco vedi adesso dopo questa straordinaria stagione il napoli al ritorno al mondiale come avevamo pronosticato comincerà insomma a perdere qualche colpa poi le altre squadre dietro potranno recuperare ovviamente io da milanista eravamo secondi quella giornata vincemmo con la salunità andammo a meno 5 dal napoli cominciai un po a farci la bocca buona dire ok dai 5 punti se adesso il napoli perde qualche altro colpo noi facciamo il nostro chissà magari si può provare a lottarli questo campionato che finora è stato saldamente nero romani non l'avessi mai pensato il napoli è ricominciato ad andare a ricominciare a andare fortissimo ha vinto tutte le partite contestualmente il milan è caduto in un buco nero clamoroso perdendo un sacco di partite solo negli ultimi giornati sembriamo esserci ripresi quindi insomma ormai noi il calendario è il calendario lo scudetto lo vediamo con il binocolo ma qua parliamo del napoli napoli che veramente tornato a vincere tutte le partite mentre appunto le altre squadre hanno perso colpi non solo il milan ma anche l'inter la juve è stata pure penalizzata fatto sta che attualmente il napoli ha un vantaggio sulla seconda impensabile impensabile 15 punti sull'inter è un qualcosa di inimmaginabile insomma credo di non rovinare la giornata nessun napoletano che so che in sono un po scaramantici dicendo che il napoli quest'anno vincerà il campionato proprio come si dice col cigarro no nel senso con una scioltezza con una tranquillità unica e a memoria da quando io seguo il calcio un campionato dominato così tanto non lo ricordo ma neppure dalla juve dei 102 punti di conte cioè quella juve dominò il campionato però fino fino a metà del campionato fino diciamo a a metà del giorno di ritorno c'era la sensazione che la roma che potessero comunque dargli fastidio il napoli la roma c'erano delle rivali che non sembravano a livello della juventus in quegli anni ma diciamo erano comunque sempre abbastanza vicina a livello di punteggio poi nel finale insomma questa quale calarono un po la juve anche lì in anello tantissime vittorie consecutive andò a dominare il campionato e vincere con tantissimi punti di vantaggio ma proprio qui il napoli da inizio del campionato che dà l'idea di giocare un altro calcio proprio di essere di un'altra categoria e infatti ripeto alla 23esima giornata 15 punti di vantaggio sulla seconda può veramente permettersi di giocare in tranquillità d'ora in poi perché anche un eventuale passo falso non sarebbe assolutamente un problema anche perché poi le altre squadre dietro non fanno tante vittorie non tengono il ritmo quindi non sarebbe un problema ma il fatto è che il napoli non è che ha solo dimostrato questo in campionato perché per esempio milano scorso vinse il campionato fece un ottimo campionato non a livello di questo nel napoli ci mancherebbe altro però in champions fece una champions diciamo così così uscì ultimo in un girone difficile ok però senza grandi partite a parte quella con l'atlantico madrid in coppa italia uscì in semifinale contro l'inter quindi insomma il campionato diciamo fu giocato molto bene dal milan che poi lo vinse ma per il resto il napoli quest'anno ha fatto una champions finora fenomenale un girone difficile comunque perché con rangers ok ma ajax e liverpool sono due grandi squadre e il suo giro era dominato il napoli l'ha vinto vincendo tutte le partite perdendo solo l'ultima danfield 2 a 0 con liverpool in una partita tra l'altro ben giocata dal napoli che non meritava quella sconfitta secondo me meritava almeno il pareggio in quella partita e e adesso la vittoria con l'intracht che probabilmente anche se ancora c'è da giocare il ritorno proietta in napoli ai quarti finali di champions league tra le migliori otto d'europa per la prima volta nella storia quindi insomma un risultato straordinario anche facciano le corne tifosi del napoli dovesse fermarsi e poi eventualmente ai quarti la champions del napoli sarebbe comunque un risultato straordinario visto che appunto è la prima volta sarebbe la prima volta per il napoli tra i migliori otto se proprio vogliamo trovare un neo alla stagione del napoli la coppa italia dove effettivamente uscire alle ottavi di finale contro la cremonese è stata una cosa che nessuno si aspettava lì forse il napoli ha peccato un po di presunzione spalletti perché ha fatto un ampio turnover presupponendo che comunque si potesse vincere tranquillamente contro una cremonese ultima in serie a che non aveva mai vinto una partita il cremonese che invece in coppa si è dimostrata una squadra valida temibile tant'è che poi ha battuto anche la roma ai quarti di finale si è qualificata in semifinale quindi lì bisogna fare i complimenti alla cremonese ed è forse appunto l'unico neo finora della stagione del napoli che per il resto appunto è straordinaria poi certo se vogliamo cercare l'ago nel pagliaio possiamo dire che è vero che il girone di champions era difficile ma è vero anche che le squadre che affrontate nel girone di champions non vivono la loro miglior stagione l'ajax è abbastanza indietro nel campionato olandese quando invece l'ajax è sempre a dominare il campionato olandese quest'anno fa fa molta molta difficoltà ha perso prendendo cinque gol dal volendam qualche giornata fa quindi insomma non vive una stagione straordinaria il liverpool stesso pur essendo una grandissima squadra quest'anno nella pre ne sta faticando tanto anche solo per cercare di di ottenere uno dei primi quattro posti per la prossima champions league non è neanche detto che ce la farà da arrivare dai primi quattro anzi mi azzardo a dire che potrebbe non farcela e anche in champions ha perso appunto con real madrid 5 a 2 nell'ultima negli ottavi di finale quindi ecco potremmo provare a dire ok il napoli ha affrontato grandi squadre ma che non affrontavano la loro migliore stagione però napoli le ha le ha dominate liverpool ha vinto 4 a 1 con l'ajax 6 a 1 cioè quindi secondo me le chiacchiere stanno a zero ora l'entra non sarà uno squadrone però comunque viveva un buon momento eppure è stato ha dominato al napoli che ha vinto ben più di quello che diceva risultato ben più di quel 2 a 0 che si vede nel tabellino quindi la domanda che voglio porme alla fine di questo video è ma il napoli dove può arrivare quest'anno perché che vincerà il campionato per me è scritto e già sarebbe straordinario ma in champions insomma io pensavo ai quarti potesse arrivarci e penso ci arriverà ma a questo punto non solo vedendo il napoli ma vedendo anche le altre squadre secondo me i tifosi napoletani possono sognare anche qualcosa di più ora non dico necessariamente vincerla perché comunque per vincerla devi sfidare le squadre più forti d'europa vincere e devi anche andarti bene ecco non è solo una questione di valore della squadra di gioco della squadra però voi vedete tante squadre molto superiori al napoli c'è lo stesso pari san germain che sulla carta è sicuramente superiori al napoli sta vivendo un momento di crisi importante in ligana ha perso diverse partite l'ultima l'ha vinta in maniera rocambolesca gli ultimi minuti con il lille mi pare la stava perdendo quindi anche il psg visto col bayern ha lasciato un po desiderare il bayern in europa è uno squadrone finora quest'anno la vinte praticamente tutte però in campionato ha lasciato un po desiderare anche il bayern ha dimostrato di non essere proprio una squadra infallibile e gli altri in europa tolte le italiane gli altri che potrebbero andare avanti ok il city è fortissimo forse quella è l'unica vera minaccia però anche il city in premier quest'anno qualche colpo l'ha perso ogni tanto tant'è che è lì a lottarsi la testa con l'arsenal quando in genere il city domina la premier dall'inizio alla fine tant'è che negli ultimi quattro anni ne ha vinta e tre di premier quindi non lo so cioè capite io non vedo queste squadre palesemente più forti del napoli non dico a livello di rosa dico a livello di gioco a livello di quello che hanno fatto durante la stagione finora tutte le squadre hanno avuto alti e bassi il napoli ha avuto praticamente solo alti quindi non lo so vi lascio così con questo interrogativo ma napoli ok il campionato quello vincerà non è che quest'anno può fare veramente il miracolo e vincere anche la champions io penso di no però però ogni partita che passa mi viene il sospetto insomma perché questo napoli è veramente una squadra fantastica gioca benissimo a interpreti che stanno dando al massimo osimendo quei tanti infortuni quest'anno sta facendo veramente il devasto varaskelia nessuno lo conosceva adesso penso sia uno degli esterni più promettenti d'europa tutti sono migliorati marirui lo stesso di lorenzi in difesa kim ha sostituito benissimo culibali anche le riserve come simeone a raspadori elmas tutti stanno facendo loro una squadra che gira meraviglia e quindi io dico insomma tifosi napoletani io fossi in voi un pensierino ce lo farei anche alla champions alla fine nel calcio non sempre vince quella che sulla carta è la più forte grazie a tutti